Prima tecnica che vediamo questa sera, tipica della sommissione wrestling, tecnica di soffocamento, in gergo mataleon, adesso vedremo come Carlo, in questo caso Carlo Baraldi, quello sotto come la esegue. Adesso vedete che l'atleta è scivolato dietro la schiena del suo avversario, fermati pure Carlo, vedete che da questa posizione il nostro atleta non fa altro che tenere strette le gambe del suo avversario con le sue gambe in questa posizione, quindi esercita pressione in maniera tale che lui non possa muovere le sue gambe. Da questa parte Carlo non ha fatto altro che prendere, arrivare alla gola del suo avversario e a chiudere la presa in maniera molto forte, vedete che anziché fare una semplice chiusura di braccia in questo modo, che peraltro non funziona assolutamente, è una classica tipica di chiusura, probabilmente ci vorrebbe un clic per aprire questa presa, e da qui poi dopo lui cerca di dare pressione con le sue braccia, vedete, verso il collo di Kylian, e nel frattempo tira forte con le sue gambe, quindi va in iperestensione con la schiena. Questa classica tecnica di soffocamento, tecnica peraltro anche molto pericolosa nel corso di tornei, perché? Perché se l'atleta, in questo caso, Kylian, volesse tenere la leva fino alla fine, molte volte potrebbe capitare che il sangue non affluisca più il cervello e quindi si crei una sorta di svenimento nel nostro atleta, è già capitato più di una volta. Rifatela pure ragazzi. Carlo esce con il braccio, spalla il suo avversario, passa dietro, molto bene, prende, tira con le gambe per girarlo, tecnica tipica di soffocamento, in iperestensione con la schiena, tira con le braccia, soffocamento avvenuto. Molto bene. Molto bene. Grazie.